C'è anche l'Athletic Club Tennis Tavolo nel giorno della presentazione dell'annuario Ligure e dello sport, ci racconti che cos'è l'Athletic Club? Siamo sicuramente una grande famiglia, anche perché ormai è una famiglia che comincia ad avere qualche anno, perché noi risaliamo all'Athletic Club al 68, quindi stiamo parlando di 50 anni di attività, quindi non è poca roba. Abbiamo avuto qualche anno buio all'inizio del 2000, ma adesso abbiamo ripreso al pieno andare e la settimana prossima ci giochiamo la promozione in serie A1 femminile con la nostra squadra, partecipiamo ai play-off che saranno a Terni sabato prossimo, quindi sabato 21, sì, giusto, a 21, e con decorosa speranza di riuscire a ottenere anche la promozione in A1 che sarebbe un successo quasi inaspettato per certi versi. Possiamo comunque già dire che è un ottimo 2018? Insomma, era un obiettivo quello di arrivare ai play-off? Oppure ci siete arrivati crescendo piano piano e cullando questa speranza da lontano? No, direi che è stato sostanzialmente inaspettato, nel senso che pensavamo più che altro di fare un campionato con una certa tranquillità, invece ci ritroviamo con qualche chance di promozione, ecco, vedremo quello che succederà. Però abbiamo anche altre squadre, nella stessa giornata la serie B femminile, si gioca anche lei la promozione per l'A2 femminile, quindi anche lì abbiamo ottenuto un ottimo risultato in serie B che ci siamo qualificati per il play-off della serie B, nel senso che abbiamo tante altre squadre minori, più in campionati minori, è un'attività che ha un certo successo qua a Genova, in modo particolare, parliamo di 70-80 tesserati con noi che partecipano a varie attività tutto l'anno, abbiamo una sede in via Spataro 38 a San Pier d'Arena dove ci sono 5 tavoli fissi, quindi si può giocare 24 ore su 24, ed è una buona opportunità per tanta gente, giovani e non solo giovani. Da che età si può iniziare a praticare? A praticare basta arrivare al tavolo, nel senso che i più giovani iniziano magari a 6-7 anni, abbiamo ragazzi giovani e abbiamo anche dei tesserati di 80 e qualche anno, gente che si mette ancora in gioco nonostante l'età ed è una delle cose belle del tennis tavolo, è proprio questa, nel senso che è uno sport praticabile a qualunque età, nel senso che chiaramente con i risultati che è possibile fare, ma a qualunque età, quindi è facile trovare il nipote assieme al nonno che si sfidano e giocano con ambizioni da parte di tutti, e da noi succede spesso questo, abbiamo la fortuna di avere tesserati di tutte le età, diciamo in modo particolare nei veterani siamo tra le prime società in Italia, proprio perché, forse anche per la storia che abbiamo, siamo sempre tra le prime 4-5 società italiane col gruppo veterani.